Questo vuol dire piccolino, eh? Cicchitico, è veramente piccolino. Adesso so che c'è qualcosa che ha a che fare con la panza. Bravo. Abbiamo Danny Cresi, che è una nostra danzatrice, ma non solo insegnante e coreografa, di danze orientali e sudamericane. In questo periodo di trasformazioni etniche, cerca continuamente di portare una miscela tra danze orientali e danze sudamericane. Bravissimo, bravissimo. La miscela è una bella parola. Abbiamo un esempio di questo mixaggio tra danze orientali e danze. Grazie Dante, si mette a posto il ciuffo. Allora, la più bella miscela del mondo, eccola! Ebbene, qui stiamo arrivando veramente a Rai 1. È già partito il numero. Un numero bello ma pericoloso. Molto carina. E non muove solo il ventre. Esatto. Ebbene, qui abbiamo dei sapori che vengono da lontano, ma che Dante ci porta in casa. Oh! Mamma mia, grazie Dante! Non ho parole! Complimenti a questa danzatrice del ventre e non solo. E chiudiamo in bellezza con che cosa? E ritorno a trovarsi dalla Russia le nostre... Grazie.